Sto immaginando un tipo diverso di video, un video che chiede minimo editing, editing minimale perché attualmente i video che faccio sono complicati, cioè mi metto a parlare di un argomento complicato ho difficoltà a parlare di seguito perché sono iperattivo quindi ho un continuamento di comportare i pensieri difficilmente riesco a mantenere un processo lineare, di pensiero lineare e a volte non mi ricordo cosa fare potrei mirare la cosa leggendo copione, tipo come ho fatto con l'ultimo video sulla Meloni ma poi tanto un video così complicato non so ne ho guardato nessuno quindi piuttosto che concettarmi sulla qualità vorrei provare a buttarmi sulla quantità quindi vorrei iniziare questa nuova serie che si chiama brainstorming che letteralmente è questo, cioè io che parlo di un argomento cioè preparare ruota libera, cercando i punti fondamentali e tenere il gliding al minimale in questo modo è essere più possibile un fiume di pensieri piuttosto che un copione da leggere con paragrafi in introduzione e incipit in questo modo prima o poi qualcosa forse sarebbe da fuori buono ho già tanti argomenti da fare che vorrei fare le idee per questo canale sono abbastanza illimitate cioè non ho mai pensato che faccio un canale solo di una cosa sono pensato di fare un canale di tante cose perché ho il difetto della fantasia che si stende in tutte le direzioni non è, non si riesce a limitare ho sempre dovuto fare tantissime cose quindi niente, vorrei iniziare a fare questo brainstorming questo lo chiamerò l'episodio zero grazie a tutti